Attesa, speranza, due parole che si intersecono perfettamente con il momento storico rosso-azzurro. De Canio cerca continuità, conferme e soprattutto attende sorprese. La sosta, giorni per collaudare il pensiero tattico del meritocratico De Canio. Gioca solo chi sta meglio e chi merita. Non esiste passato né curriculum per l'allenatore rosso-azzurro. Esiste solo campo, sudore, impegno e dimostrazione di valore. Ecco perché l'emergenza ha svelato novità. Vedi Checo, Guionber e anche il vecchietto ma utile Capuano. E tutti dovranno sgomitare per riconquistare il posto in prima linea. Allenarsi con soli 12-13 giocatori non aiuta in vista del rientro in campionato in quel di Torino. Postulato De Canio, chi non sta al 100% non viene né rischiato né gioca. Ergo Peruzzi si allena ma non sarà ruolabile. Spolli scalpita in anella giri di campo e potrebbe essere uno dei lieti rientri in vista della prossima sfida. Plasile Barientos, i tempi non sono ancora maturi ma per il cieco i prossimi giorni potrebbero svelare qualcosa in più, almeno per la panchina. Giorni determinanti però per Izco, Alvarez e Maxi Lopez. Ritrovarli aumentando la resa del minutaggio e la forma rappresenta una solidità. Il resto verrà da sé con l'impegno massimo aumentando anche la qualità di rendimento della squadra, non più solo al primo tempo. Senza dimenticare lo spirito di sacrificio ritrovato, l'unità, tutti ingredienti che pretende il meritocratico De Canio per cercare di continuare a fare punti pesanti per affrontare al meglio la strada in salita chiamata salvezza.